Questi figli amatissimi, una normale famiglia italiana, un padre, una madre, due figli. Io e mia moglie ci vogliamo molto bene, ma i nostri due ragazzi ci fanno impazzire. Io sono il padre, poi c'è mia moglie, c'è mia figlia Federica e poi mio figlio, come l'abbiamo chiamato? Ah, Gabriele! Ecco, io sono tuo figlio. Senti papà, possiamo parlare di me un momento, per favore? Ho un'alternativa? Vabbè, se non ti va lasciamo perdere. Comunque la situazione è questa. Francesca è tornata a Milano e quindi vuole vendere il casale di Todi. Purtroppo è suo e io non posso dirle niente. Quindi tu non hai più una casa? No, no, per ora. Perché io, al contrario di Federica, tua figlia, non ho intenzione di abbandonare il mio sogno. Io voglio vivere a Todi, su questo non ci piove. Ho trovato un altro casale, che è tutto da ristrutturare. Quindi ci piove? Questo non è un problema, perché io posso farlo perfettamente da solo. Però? 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 Eh, però. Ho solo metà dei soldi per comprarlo, l'altra metà la devo trovare. Guarda, noi di soldi non ne abbiamo più. Tua sorella ci ha spolpati. L'abbadante della nonna vuole un aumento, altrimenti se ne torna in Ucraina. E se entro venerdì non paghiamo le grondaglie all'amministratore di condominio, quello ce le toglie. Ma non sono i soldi che vi sto chiedendo. Sempre a pensare a questi soldi. Io? Ma questi sono i miei figli. Ma non è che me li hanno scambiati nella culla? Dai, Gabriele, vai a trovare la nonna. È da tanto che non ci vai. Ma lo sai che le fa piacere. Lo so, papà, lo so. Ma quando vuoi che ci vada? Lavoro tutte le sere fino alle nove. Capirai, quando posso ci vado. Non si ricorda neanche come mi chiamo. Per favore, non mi stressare anche tu. Tu, come tua figlia, la deve finire. La deve finire. Sono 26 anni che dice che sta male, che vuole morire e poi non muore mai. Lo facesse una buona volta. Lo facesse. Almeno ci libera da questo macigno che è. No, no, no. La deve piantare, papà. La deve piantare. È tornata qui dopo otto mesi di master. A sei settimane dalla fine. Con tutto quello che vi è costato, sta qui e uè, 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 piange. Come una cretina dalla mattina alla sera. Io sto male. Sono io che sto a pezzi, non lei. Io mi sono separato. Se avete una parte dei miei problemi, venite a teatro. Passerete una bella serata divertente e possibilmente venite con i vostri figli. Così, oltre a divertirvi, sarà una terapia familiare. Questi figli amatissimi, di Roberta Scherl, con il sottoscritto Pietro Longhi, è di Angelillo, Danilo Celli e mia sorella Carmen Di Marzo. La regia è di Silvio Giordani. A Roma, al Teatro dei Serbi. Dal 4 al 23 novembre. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie.